Bentornati a Scatici24 Economia, reddito 4.0 è il nostro titolo, perché visto che i redditi nel presente non stanno dando il meglio di sé, hanno svariati problemi, spesso nel dibattito pubblico e in quello politico si parla molto di quelli futuri, di cosa si può fare, di inventarsi nuove forme di reddito. Qui in studio con me Elena Granaglia, che è docente di scienza delle finanze dell'Università Roma 3 e coautrice del libro Il reddito di base, benvenuta. Grazie molte. Collegato con noi da Torino, Luca Ricolfi, sociologo, docente di analisi di dati all'Università di Torino, benvenuto. Buongiorno. E saluto, collegato con noi da Milano, Federico Pistono, che è scrittore, imprenditore, divulgatore scientifico, ricercatore, giovane ma già influente, citato spesso anche da testate estere, proprio su questi temi, tra l'altro autore di un libro dal titolo che è tutto un programma, I robot ci ruberanno il lavoro, ma va bene così, benvenuto Pistono. Grazie. Pistono, abbiamo visto che questi temi, uno può dire, e ne abbiamo parlato adesso in termini, potremmo dire, tra virgolette tradizionali, nel senso che copertura finanziaria, welfare, necessità delle varie classi sociali, delle coorti, delle giovani, più anziane, eccetera. Però il discorso, proprio questo qui, sulla possibilità di dare un reddito a tutti, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, che lavorino, che non lavorino, che siano ricchi, che siano poveri, ha dei sostenitori oggi che uno magari non si aspetta, cioè la Silicon Valley. L'avanguardia in quell'economia diversa, quell'economia che fa anche dell'automazione, della robotizzazione, il grande pericolo che noi oggi vediamo per i lavori di tutti noi. E non a caso abbiamo visto che un guru di Silicon Valley, come il patron di iCombinator, che è una grossa società, finanzia lui questo esperimento, che parte quest'anno, dà dei soldi a delle famiglie e vede che fanno. Cioè, semplicemente se stanno sul divano a guardare la tv o invece si industriano a fare qualcosa. È un qualche modo, un modo per dire, il futuro con l'automazione e i robot non ci toglierà niente, perché il lavoro lo faranno loro, i soldi ce li prendiamo noi, oppure è utopia pura e non è serio? Ma, allora, questa idea esiste da un paio di millenni, forse anche di più, ne parlava già Aristotele. Poi in tempi relativamente più recenti, Thomas More e Payne. Però la cosa che trovo interessante è che si può fare un discorso ideologico e quello che è stato fatto per migliaia di anni, oppure si fa un discorso molto pratico, che è quello che a me interessa, cioè guardare le cose che funzionano e basta e lasciare l'ideologia fuori dalla finestra, cioè fuori dalla porta. E il discorso che sta facendo la Finlandia è esattamente quello, perché le 2000 persone non sono state scelte a caso. In Finlandia si fa nella città di Oula, che è la quinta città per popolazione della Finlandia, sono 200.000 persone, e lì è pieno di ingegneri qualificati, matematici e informatici, che sono rimasti senza lavoro. 2-3.000 lavoratori della Nokia, o Nokia, come dicono loro, che sono stati lasciati a casa quando la Nokia è quasi fallita. L'ha comprata la Microsoft e quindi si è nata la Finlandia. E questi qua hanno un incentivo maggiore a ricevere il sussidio piuttosto che mettersi a lavorare con una nuova azienda, perché perderebbero quindi la trappola dei benefits, come dicevano prima i due docenti. E quindi in Finlandia questa cosa la stanno utilizzando come lotta per la disoccupazione. Quindi è proprio un cambio di paradigma, non bisogna vedere il reddito di cittadinanza, o il reddito di base come un modo per dare dei soldi ai bisognosi, ma come un modo per stimolare l'economia, come un modo per stimolare le persone a realizzare il proprio potenziale. Ma questo sogno che hanno questi, ad esempio Altman, che è il patron di iCombinator, che citavo prima, lui lo dice esplicitamente, perché qualcuno il lavoro, la produzione per generare il reddito lo deve pur fare. Lui dice, siamo convinti che in futuro ci penseranno appunto i programmi, gli automi, i robot, a fare questo e si genererà la sufficiente ricchezza da distribuire agli esseri umani indipendentemente che lavorino o no. Questa cosa è realistica oppure no? Allora è in 2000 anni che ne parliamo, però non abbiamo avuto la tecnologia capace di realizzarlo, questo sogno. E adesso, secondo me, a breve ci sarà e in parte già c'è. Per quanto mi riguarda, e questo lo scrivo da 7-8 anni, sarebbe quasi già possibile adesso automatizzare la stragrande maggioranza dei lavori. Ma c'è una resistenza a farlo, proprio perché adesso c'è l'equivalenza tra impiego e capacità di sopravvivere nella società. Perché se non hai un impiego, se non riesci a fare il reddito, tu hai proprio delle problematiche a sopravvivere. Cioè, se vivi con magari 4-500 euro al mese, o ci sono milioni di persone che non ricevono assolutamente niente. Quando questa eguaglianza tra reddito e capacità di sopravvivenza viene scorporata, cioè chiamato decoupling in inglese, quando queste cose vengono separate, tu hai la possibilità di creare un nuovo paradigma sociale dove le persone hanno la possibilità di diventare imprenditori di se stessi. Possono impiegare, per esempio, un anno per studiare senza pensare che aspitano noi soldi per pagare le belle. Allora, il discorso è chiarissimo e affascinantissimo. Ricolfi, noi qui nel presente parliamo più che altro spesso di lavori senza salario, che sono appunto il nuovo schiavismo del caporalato, oppure certi lavori super precari dell'app Economy, come si dice. Qui si parla del contrario, cioè del salario senza lavoro. Eppure utopia, o come dice Pistono, attenzione perché ci sono germi, già adesso che si vedono, che ci fanno capire che non è che sia una roba così, appunto da autopisti che non hanno ben chiaro come vanno le cose. La sua posizione? Ma sai, uno non ha una posizione, dovrebbe avere una palla di vetro perché bisogna vedere il progresso tecnologico, a che velocità procede. Keynes aveva immaginato che in un secolo ci sarebbe stata una decuplicazione circa della produttività ed effettivamente questo si è realizzato. È possibile che la produttività aumenti ancora molto e alcune cose che adesso ci sembrano molto irrealistiche fra 10, 15, 20, 30 anni diventino possibili. Io faccio solo presente un paio di punti facilmente automatizzabili oppure sono automatizzabili a condizioni che non è detto siano accettate da tutti. L'altro punto è che sono molto d'accordo con quello che diceva la collega sui doppi conteggi. È vero, tutti i calcoli vanno fatti per bene, quindi bisogna cominciare a dire che una parte dei quattrini della spesa pubblica vanno in pensioni e un'altra parte vanno in assistenza ma purtroppo io ho fatto i conti anche al netto di questi costi, questi doppi conteggi e ad esempio togliendo completamente i pensionati e recuperando quanto viene dato all'assistenza quindi pensando un reddito di base che va alle persone che sono prima della pensione diciamo tra i 18 e i 65 anni, il costo aggiuntivo eliminati i doppi conteggi è sempre ingente cioè stiamo parlando di un impatto che è superiore sicuramente ai 100 miliardi di euro in un paese come l'Italia. Quindi ci sono problemi pratici, non ideologici. Uno può essere d'accordo, contento di questi sviluppi ma non credo che saranno così facili e così rapidi. Allora brevemente Pistono che voleva intervenire su questo, dice Ricolfi sì però molte professioni i robot non le possono fare e comunque i soldi adesso sono tantissimi da trovare bisogna vedere in futuro come sarà la generazione di ricchezza per potercelo permettere. Prego di essere breve Pistono. Sì sì certo, sulla spera di cristallo sono assolutamente d'accordo. La mia opinione personale basandomi sulle mie ricerche non solo anche fra i Osborne e economisti dell'MIT e tanti altri dicono che invece succederà come sostengo io ma qui il futuro vedrà. Sulla fatto dei conti invece non sono d'accordo perché sostanzialmente se si ha, e questo è il grande se, se si ha una struttura di tasse e di capacità di raccogliere le tasse che funzionano allora il reddito di base può funzionare e ci sono diversi studi che lo dimostrano anche perché di fatto... Però qualcuno le tasse le deve pagare con soldi che vengono dall'altra parte, se no sarebbero tasse sullo stesso reddito di base. Sì, di fatto hanno fatto i calcoli, sarebbe un aumento del 10-15%. Proviamo a fare il calcolo sull'Italia. Sì, adesso non lo facciamo in 10 secondi, ci scambieremo dei paper dove faremo i conti più tardi, volentieri. Però il fatto è che chi ha già un reddito superiore a 10-15-20 mila sostanzialmente è come se non lo ricevesse perché poi li ridà indietro in tasse. Il vantaggio di questo sistema è che non si devono fare tutti i calcoli che costano un sacco di soldi hanno una burocrazia enorme, quindi è la semplificazione enorme. Ha ragionissima su questo. Su questo mi pare che state tutti d'accordo, ho ancora un paio di minuti, vorrei chiedere anche a Elena Granaglia. Questo discorso di finanziare il reddito partendo dai robot non è solo il futuro ma anche presente e torniamo a Benoit Hamon, il socialista francese, che lui l'ha proprio detto. Il reddito, questo qua di base che voglio dare, lo finanzio anche tassando i robot. È la stessa proposta di Bill Gates più o meno. Cioè io impiego un robot, devo pagare come fossi i contributi per la pensione, che non vanno ovviamente al robot ma vanno a chi ne ha bisogno. È già presente, non è solo il futuro questa discussione che stiamo facendo, no? È sicuramente presente questa discussione, ma anch'io sono d'accordo che appunto non abbiamo la sfera di cristallo quindi non sappiamo come ci muoveremo nel futuro, però c'è un dato di fondo che secondo me è il punto proprio centrale in questa discussione sul reddito di cittadinanza. Ci sono dei guadagni di produttività che anche in passato si sono verificati, pensiamo agli ultimi 30 anni con la crescita delle disuguaglianze. E però adesso creano disoccupazione nel lavoratore che non serve più. Però questi grossi guadagni di produttività che ci sono stati, sono stati in gran parte appropriati da una parte molto molto distretta della popolazione. Se uno dice tassiamo i robot vuol dire tassiamo chi detiene il capitale. Tassiamo le imprese che usano i robot. Quindi di fatto tassiamo i profitti. Quindi la ricchezza viene creata ma non viene redistribuita. La questione è che noi, come diceva giustamente quel bellissimo grafico Krugman, dagli anni 70 in poi che cosa vediamo? Vediamo la grande divergenza. Vediamo aumenti di produttività. In Italia purtroppo non ne vediamo molti aumenti di produttività, ma in altri paesi forti aumenti di produttività e vediamo invece retribuzioni che sono stagnanti, che stanno lì. Allora l'idea di fondo che poi dopo può essere diversamente coniugata... E in quel cuneo lì tra quelle due linee ci sono soldi abbastanza... C'è una parte che è di tutti, cioè c'è una qualche cosa che è di tutti, che va in qualche modo redistribuita. Possiamo dire che in quelle due linee che le diceva c'è spazio per quell'ucopia di cui stiamo parlando. Posso soldi una cosa velocissima? Cinque secondi. Cinque secondi, il punto è che quando si fanno i calcoli dobbiamo però avere bene in mente che cosa sostituiamo e cosa non sostituiamo. In Silicon Valley secondo me si ripropone molto spesso la prospettiva di Friedman, cioè tagliamo tutto il welfare in servizi, quindi sanità, istruzione eccetera e diamo solo soldi. Su questo torneremo, torneremo perché il tema è enorme, anche perché essendo molto politato nel futuro, chi può dire come andrà a finire, vedremo avvicinandoci al futuro col tempo che passa, di ritornarci su. Io ringrazio gli ospiti che sono stati con noi, l'Enea Tornante del Giornale.